Sono stati sommozzatori di Vigili del Fuoco a recuperare i corpi di Tiziana Tozzo, 45 anni, di Cantù, Como, e di Morgan Algeri, 38 anni, di Brembate Sopra, Bergamo. Gli hanno trovati in fondo al lago, Gelido, morti intrappolati nell'auto in cui si trovavano, che si è inabissata. Tiziana e Morgan, la sera del 6 gennaio, dopo una passeggiata qui a Como, sono arrivati in questo piazzale. Sono entrati nell'auto di lui, che all'improvviso, per motivi ancora da accertare, è salita su questo marciapiede, poi ha divelto la panchina in pietra, ha sfondato la ringhiera e infine è piombata nel lago. Per qualche secondo, in quell'abitacolo buio, i due hanno provato a liberarsi dalle cinture, ad aprire le portiere, ma non ci sono riusciti. Beh, ho sentito un gran botto, ero qua, e poi mi sono affacciato e c'era la macchina che stava, che è affondata praticamente, poi per un certo momento si è vista ancora la luce della macchina sott'acqua e poi basta. E poi sono arrivati le polizia, pompieri. Prima dell'incidente alcuni ragazzi li avevano visti parlare, erano compici, scherzosi, cosa sia successo non si sa, vengono battute tutte le piste, un errore umano, un malore, un guasto, un gesto volontario. Bisognerà capire anche come mai questo parapetto non abbia retto all'urto. Morgan era pilota di una scuola di volo a Bergamo, aveva la passione per le attività subacquee, per la moto. Tiziana, invece, aveva un figlio di 14 anni. Lui era uscito da poco, da una lunga relazione, lei era separata. Sabato erano al loro primo appuntamento, dopo essersi conosciuti sui social. Prima la cena al ristorante, poi la passeggiata e l'autoparcheggiata qui, in questo punto panoramico, dove i turisti si fanno i selfie e le coppie si fermano a guardare il lago. Appuntamento che si è trasformato in tragedia. Allora, io direi, prima di sentire i nostri ospiti, andiamo con Fabio Giuffrida in diretta, in questo momento da Como. Buongiorno Fabio, intanto se ci puoi mostrare esattamente, allora, il punto dove era parcheggiata la macchina, per cercare di capire la dinamica e il brevissimo tragitto che ha fatto per finire in acqua. Buon poveriggio Milo, noi ci troviamo proprio nel punto in cui era parcheggiata l'auto, che si trovava appunto in questo piazzale. Guarda, era parcheggiata qui, più o meno si tratta di tre metri che la separano dalla ringhiera in cui poi è piombata, in cui poi è finita perché è piombata nel lago, come ben sappiamo. Non so se il nostro operatore riesce a farvelo vedere, però l'auto a un certo punto è come se fosse ripartita a tutta velocità, è schizzata in acqua, ha superato questo marciapiede, guardate, dopodiché ha divelto la panchina in pietra, guardate come si è spostata, eccola qui. Inizialmente si trova proprio in questo punto. Eccola, non so se riesce a vederla Milo. Sì, 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 adesso la vediamo. La panchina in pietra che è stata spostata, ecco, guardate poi il buco che ha creato, questa ringhiera è stata completamente distrutta, l'auto poi è finita lì in fondo, è stata ritrovata poi a 15 metri di profondità, guardate, non so se si riesce a vedere, ma è molto grande il buco di questa ringhiera, infatti bisognerà capire anche in effetti come mai non abbia poi eretto all'urto. Alcune risposte potrà darcele soltanto gli accertamenti sull'auto, oltre che ovviamente l'autopsia. La distanza che intercorreva dunque tra l'auto e la ringhiera, poi il punto in cui è caduta, era più o meno di tre metri. Quella sera, peraltro, Milo, c'erano pochissime persone, c'era molto freddo, c'era vento, tantissime, diverse sono ovviamente le ipotesi che si stanno facendo, tutte le piste restano aperte. E quella più accreditata potrebbe essere quella appunto di un guasto all'auto, perché così ha riferito la sorella del ragazzo. Poco fa sono anche arrivati sia il fratello di lei che alcune amiche che non hanno voluto parlare, per nessuna ragione si sono chiuse nel dolore, ma hanno lasciato alcuni fiori. Alcuni qui, altri lì in fondo, come vedete, proprio nel punto in cui è caduta l'auto.